Seduta pomeridiana fissata alle ore 17 per la squadra quest'oggi al centro sportivo Angelo Moratti. Una squadra a ranghi ridotti perché dopo gli impegni con le nazionali il mister ha dato qualche giorno di riposo tranne che a Lucio e Maicon che sono tornati dopo l'impegno con il Brasile di ieri in Germania qui ad allenarsi da piano gentile. Per Lucio è lui che ha giocato tutti i 90 minuti contro la Germania una seduta di lavoro discarico mentre invece per Maicon che non è stato utilizzato dal CT della Selesau una seduta completa con un po' di lavoro personalizzato. Veniamo invece a chi era presente quest'oggi e che non ha risposto alle chiamate delle nazionali ma che ha avuto qualche giorno di riposo comunque da parte del mister dopo il rientro dalla Cina ovvero Alvarez, Bianchetti, Cambiasso, Castellazzi, Kivu, Krizetic, Jonathan, Milito, Natalino, Orlandoni e Walter Samuel. Per loro seduta classica di allenamento poco più di un'ora agli ordini di mister Gasperini con un riscaldamento iniziale, un po' di esercitazioni sul possesso palla e poi partitella finale. Ha lavorato invece in palestra e sul campo secondo le esigenze individuali Ivan Cordoba per lui compleanno, 35esimo compleanno al lavoro qui ad Appiano Gentile ha proseguito il lavoro anche Juto Nagatom che ha anticipato un po' i compagni arrivando subito dopo l'orario di pranzo sui campi con il preparatore e poi il lavoro sempre personalizzato e differenziato per Nelson Rivas e Viviano. Quest'oggi con il preparatore dei portieri alessandronista hanno lavorato anche due giovani che sono Matteo Cincilla e Raffaele Di Gennaro che ha svolto tutta la prima parte di preparazione recuperando dagli interventi al ginocchio e che finalmente invece è a disposizione della mister e quindi è aggregato in gruppo. Domani si replica con questi giocatori a disposizione. Per tutte le altre notizie ed informazioni seguite il canale 232 di Sky Interchannel.